Ciao fans Ciao fans, è una domenica mattina di autunno inoltrato Fa abbastanza freddo, anche se adesso col sole si sta un po' meglio È mezzogiorno e stiamo partendo per un giretto tranquillo Cioè perlomeno 350 km, una roba easy E' come sotto il 100 kg Zumba Andiamo? Andiamo Attenzione fans, è già stato un incidente e noi andremo a guardare Non è che andiamo a guardare, è proprio qua in mezzo Cioè passiamo Ci siamo tamponati Bello Bello Sicuro guardavo il telefono per tamponarlo così Beh dai, riprendiamo la scorrevolezza Da posto il pullman Bello Beh siamo arrivati Qua ci sono i cash Bellagio C'è un'altra Bauccia Uè Milan è solo bellagio È bello qua Adesso il prossimo intertempo è la madonna del ghisallo eh Ti ricordi queste strade insieme e noi due la prima volta? Sì, tu che hai messo il rossetto dicendo almeno non lo faccio Eh credevi Abbiamo fatto questa stradina me la ricordo Ma avevo parcheggiato qua avanti forse Proprio avanti, era un parcheggio grande Avevo parcheggiato qua Ah sì, è vero Che limonate in sto parcheggio Cioè tipo per i due anni potremmo tornare qua a mangiare E per questo che sto per firmare un provvedimento Che possiamo sintetizzare con l'espressione Io resto a casa